Rosseto degli Abruzzi si conferma una città sicura secondo quanto emerso dal tavolo sulla sicurezza e l'ordine pubblico convocato dal prefetto Fabrizio Stelo. All'incontro che ha visto la partecipazione del sindaco Mario Nugnes e dei vertici provinciali delle forze dell'ordine è stato tracciato un bilancio positivo sulle attività svolte durante l'estate e pianificate le strategie fino alla prossima stagione estiva. Quello che è emerso sicuramente sono dati confortanti per la costa terramana e per la città di Rosseto degli Abruzzi in quanto i numeri di quelli che sono appunto gli atti vandalici o delinquenziali sono seppur non azzerati ma in fase di controllo e quindi per questo un grande ringraziamento a tutte le forze di polizia. Uno dei temi cruciali del tavolo è stato quello della videosorveglianza. Dopo un lungo lavoro di adeguamento normativo e regolamentare in tema di privacy il sistema sarà presto attivato. Dobbiamo attivare, ed è un termine giusto quello che ha accordato il tavolo, quelle che sono le telecamere presenti acquistate dal comune ma che avevano bisogno di un iter importante che si sta completando con una prossima variazione di bilancio. Si è parlato di implementazione della polizia locale, c'era con me il vice comandante Aceto, anche lì l'importanza della collaborazione e si è stata richiesta maggiore azione rispetto a quelli che sono l'incidentistica statale al netto e lo voglio ribadire della carenza di personale che questo governo purtroppo con i tagli che sta facendo e con anche le restrizioni per le nuove assunzioni di certo non ci sta aiutando ma noi non morliamo e continuiamo in una lenta ma costante azione di aumento del personale della polizia locale e dei mezzi che la stessa polizia ha. Nel corso dell'incontro si è parlato anche della costruzione di una nuova caserma dei carabinieri con l'obiettivo di elevare la struttura a tenenza rafforzando così la presenza sul territorio. Sì anche qui ringrazio sempre l'azione del prefetto e del colonnello Saccone c'è stata una proposta del provveditorato che ha stanziato 30.000 euro per una progettazione di fattibilità avanzata che si sta realizzando. Noi abbiamo messo a disposizione un'area importante, Roseto Nord, zona Borsacchio e tutto il tavolo ha confermato come strategica e importante ma anche funzionale a quelle che sono diverse caratteristiche, collegamento con le frazioni, vicinanza alla frazione di Colonia Spiaggia, presenza in un quartiere molto popoloso ma soprattutto il lavoro che sta facendo l'arma dei carabinieri per l'elevazione a tenenza per quella che sarà sicuramente un aumento della sicurezza e anche della sinergia tra le forze del territorio.